Cinque appartamenti libri di proprietà della città metropolitana in uno stabile di via Brione 38 a Torino sono stati concessi in comodato gratuito al Comitato Provinciale della Croce Rossa e, d'intesa con la Prefettura, ospitano alcune famiglie con bambini, tutte in attesa del riconoscimento della protezione internazionale. Si tratta di 46 persone, tra adulti e minori, appartenenti a nuclei familiari di diverse nazionalità, tutte presenti sul territorio da oltre un anno, già inserite nella rete di inclusione e solidarietà. I bambini frequentano le scuole elementari e medie. Si tratta di un'operazione che, ispirandosi al modello del co-housing, mette a disposizione di ogni famiglia un locale dedicato. Due appartamenti, sempre di proprietà della città metropolitana, sono inoltre dedicati a spazi comuni come il refettorio e un ufficio della Croce Rossa. Valentina Cera, consigliera metropolitana delegata alle politiche sociali e alle politiche giovanili. Questo stabile, questi sette appartamenti, sono un modello che lancia città metropolitana, un modello di accoglienza diffusa, un modello di integrazione di queste persone e di queste famiglie. Sì, è il contributo della città metropolitana, il primo, credo, contributo che città metropolitana dà al percorso di integrazione di queste famiglie che sono qui, insomma sono arrivate nel nostro paese e stanno facendo il loro percorso di accoglienza. Sono 46 le persone che riusciamo ad ospitare in questo stabile. Un ringraziamento va ovviamente alla Croce Rossa per aver organizzato questo posto che dà la possibilità a queste famiglie di avere dei luoghi propri, privati, delle vere e proprie case, stanze private ma anche dei luoghi comuni come il refettorio dove si può mangiare insieme, dove ci si può appunto conoscere ed integrare. L'accoglienza diffusa, l'integrazione nella comunità è esattamente la strada che vorremmo seguire e la città metropolitana con questa progettualità vuole essere da esempio per i suoi amministratori locali per sindaci e sindache che volessero ricominciare ad applicare un modello di accoglienza diffusa un modello di integrazione nelle comunità per persone, famiglie, bambini, bambine, ragazzi e ragazze che sono giunti nel nostro paese e che hanno bisogno di costruire una vita migliore perché no, possibilmente anche felice. Questa situazione di accoglienza curata da Croce Rossa è migliore rispetto a quella da cui provengono con quale filosofia Croce Rossa accoglie queste persone e soprattutto ne accompagna l'integrazione? Innanzitutto questo progetto nasce grazie alla fattiva collaborazione tra le istituzioni quindi città metropolitana e prefettura e la Croce Rossa è chiamata a garantire le politiche di accoglienza e di inclusione. Le famiglie presenti qui sono famiglie in Italia da almeno un anno quindi i ragazzini e i bambini vanno a scuola, i genitori vanno al lavoro e tutto questo garantisce sicuramente una facilità rispetto all'inclusione e all'integrazione necessaria. La necessità legata ai tempi di accoglienza è correlata al riconoscimento del loro status giuridico e quindi nel momento in cui saranno perfezionate le domande di protezione internazionale queste persone potranno accedere a differenti progetti ad esempio il progetto del SAI oppure potranno già avere gli strumenti per camminare con le loro gambe e quindi trovare una collocazione autonoma al di là di qualsiasi struttura istituzionale.